Ciao, come stai? Ciao, bene, a voi? Dove è nata Miracoli? Sul divano di casa mia dopo una telefonata funesta. Con chi? Non si può dire. Perché? Si dice il peccato ma non il peccatore. Quindi la peccatrice non sei tu? A questo giro no, questa faccia l'angelo. Credi negli angeli? Sì. E nei Miracoli? Sì. Quando è scritto Miracoli? Un giorno di novembre piovoso e uccioso. Ti piace il freddo e la pioggia? No. Quindi se non ci fosse stato un tempo di p***a non avresti scritto Miracoli? Probabilmente non sarebbero nate tante altre canzoni. Non ne sentiamo da tempo. Ultimamente abbiamo sentito tanti cover. Assolutamente vero e ho preferito la qualità e la quantità. Meglio poco ma buono? Sì. Miracoli parla del tempo, dei legami e delle distanze. Tre principi che mandano un po' tutti in tilt, ma è compresa. E per te quanto sono importanti? I fondamentali tutte e tre. Che differenza c'è tra morire e amare? Non l'ho ancora capito e forse è proprio per questo che è andato Miracoli. È più difficile lasciare andare o rimanere? Qualche mese infatti avrei risposto senza dubbio che era più difficile rimanere. Ora non lo so più. Quindi mancano due giorni all'uscita di Miracoli. Uscirà venerdì. Se volete già presalvare, basta cliccare sul link qua sopra e sarete tra i primi ad ascoltarla. Grazie mille. Le sta!